Un passo indietro ma con lo sguardo sempre avanti. Il candidato sindaco della destra sociale Luca Chiavegatti ha fatto la sua scelta. Entrerà a far parte del partito Fratelli d'Italia con cui appoggerà la candidatura di Roberto Di Piazza nella grande coalizione di centrodestra. Una scelta ponderata per quello che riguarda la nostra area di destra, visto appunto questa possibilità che vogliamo fortemente di mandare a casa la giunta Cosolini e quindi in unica maniera era per non disperdere i voti ma di unire le forze e di avere un senso di responsabilità verso la città e quindi fare un passo indietro in maniera responsabile. Di questo diciamo sono contento perché torna a far parte della grande famiglia di Fratelli d'Italia di cui facevo parte 30 anni fa e quindi adesso diciamo che il mio pensiero deve essere portato con almeno dei punti di programma che siano rispettati dal candidato sindaco Roberto Di Piazza. I valori condivisi fra destra sociale e Fratelli d'Italia a fini per molti aspetti hanno dunque trovato confluenza. L'obiettivo comune senza mezze misure è quello di mandare a casa l'attuale giunta. Credo che ormai sia chiaro che in questo momento ci si può dividere solo tra chi intende confermare la fallimentare gestione del sindaco Cosolini e chi vuole ricostruire la città con il candidato sindaco Di Piazza. Chiunque non voti per Di Piazza di fatto dà una mano a Cosolini. Accorciate dunque le distanze che vedevano Chiavegatti lontano dalla politica di Di Piazza. Sicuramente il fatto che lui aveva senso di appartenenza a NCD e questo qua quello a me diciamo ovviamente è che è un organo che al momento appoggia il governo. Questo mi è stato dato garanzie che invece è trovato anche da parte su un passo indietro e quindi per dare un senso di responsabilità anche verso il mio elettorato c'è una questione di coerenza e quindi un patto che sia chiaro verso quello che sia la cittadinanza di Trieste.